Mandi a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati dal vostro Ava come Lava, andiamo avanti! No, che avevo detto nel video precedente, con la missione nuova, Notturno Subacqueo. Quindi, andiamo immediatamente, ok, quindi andiamo in alto, dice. Qua, che figata di pesce, un narvalo dovrebbe essere. E qua c'è il gatto, ma noi andiamo avanti, nessun problema. Teleport, avete visto? Quindi, il gatto è qua e va sulla destra, ma un attimo, sblocchiamo prima il teleport, che è qua. Ora andiamo da lui. Qua c'è il punto di osservazione, facciamo. Vedete che c'è giù la missione, quindi Prendiamo il teleport, e ci lanciamo, e andiamo verso di lui. Voilà. Ok, adesso ci dice, cerca lo spartito vuoto. Facciamo V, ci dice che dobbiamo tornare indietro. Quindi, ritorniamo nel teleport in cui avevamo sbloccato. Eccoci qua, entriamo. Sembra quello di Child, no, la balena, ma non è quello. Molto bene, il tubo, vabbè, adesso vi spiego, che è molto molto semplice. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere il punto di osservazione, ecco. Dopodiché, andiamo qui, vicino, vedete che compare T, prendiamo il potere, adesso abbiamo il potere, e vedete che ci sono questi due segni nei muri. Dobbiamo andare qui, tenere premuto l'abilità elementali, e spostare l'indicatore sulla forma. Molto molto semplice. Voilà, completato. Prendete la cesta, se volete, e facciamo Rimuovi. E adesso suona la sinfonia sulla fresco, quindi torniamo indietro, sempre col teleport, e facciamo Inserisci. E adesso ci dice, sconfiggi Golem, quindi buttateli giù. Ed eccoci, completato il secondo movimento, la seconda missione. Bene ragazzi, termino qua il video, mi raccomando. E adesso esce la nuova missione, ovviamente io chiudo come sempre, e ci vediamo col prossimo video. Ciao! Ciao!